Caspita, si parla di cospito, dove? Non nei mercati, non nei supermercati, non laddove c'è la gente normale. Si parla di cospito in tv, sui giornali, Repubblica è molto appassionata del tema. In un paese in cui ci sono famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e quindi a fare la spesa, dove c'è un pezzo d'Italia che aspetta la chiusura dei mercati rionali per andare a rovistare negli avanzi delle cassette della frutta, della verdura. In un'Italia in cui la sanità è praticamente piegata alle nuove logiche, ai tagli, in questa Italia qua c'è un signore che è un condannato per fatti gravi che inizia uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis o contro non si sa che cosa. È un soggetto pericoloso? Sì, perché se questa protesta che lui mette in scena viene fatta propria da altri gruppi di anarchici e questi anarchici che dicono di avercela contro le multinazionali, contro il grande potere, poi però che cosa fanno? Vanno a spaccare le macchine, incendiare le macchine di persone normalissime che tra l'altro magari quella macchina l'hanno presa con delle rate, quindi indebitandosi. Quindi voglio vedere questi signori, questi anarchici alla fine sfogano la loro rabbia contro il capitalismo, contro l'imperialismo, contro le macchine della povera gente. Pensate che gente, pensate che visione politica, ok? Oppure se la prendono contro, se la prendono con i commercianti magari spaccando le vetrine e questi commercianti già devono fare i conti con la crisi, poi devono fare i conti con il vero potere del multinazionale su tutte Amazon e loro spaccano le vetrine dei commercianti, ok? Poi se la prendono con la polizia locale, noto braccio armato del potere finanziario piuttosto che di Soros, a me sembrano veramente ormai delle persone fuori dal mondo, fuori dal contesto e questo cospito parla a loro, direttamente o indirettamente non lo so però parla a loro e si lamenta del 41 bis. Ora parla a loro ma parla anche a quello che sappiamo, parla anche con gente che è un pezzo grosso nelle mafie organizzate e li avrà incontrati lì nelle carceri del 41 bis, non lo so però so soltanto che ci sono questi fatti, ci sono questi elementi. Allora io mi domando in un'Italia dove i problemi veri sono altri noi ci dobbiamo preoccupare dello sciopero della fame di cospito e dello stato di salute del dimagrimento di cospito. Ora la dico in maniera brutta, ma cospito questa protesta la fa contro lo Stato, cioè utilizza il suo corpo, utilizza lo sciopero della fame per protestare contro lo Stato, quindi non è che è lo Stato che lo sta trattando male, anzi diciamocela tutta, lo Stato gli sta dando già troppe, troppe importanza. Ora basta guardare che cosa è successo anche nelle aule di giustizia dove questo signore alla fine era sempre lì con il piglio dell'anarchico a fronteggiare, a sfidare lo Stato, la magistratura, la politica, ma lo può fare per amore di non me ne frega niente se fa lo sciopero della fame contro lo Stato, è una sua battaglia politica, va benissimo la facesse, però nessuno si deve stare lì a preoccupare se dimagrisce, se dimagrisce per lo sciopero della fame che vuole fare in segno di sfida verso lo Stato ne risponderà, ma non è che devo mettere in discussione il 41 bis. Allora ai signori del Partito Democratico che su questa vicenda evidentemente hanno costruito un pezzo della loro battaglia politica alla vigilia del congresso piuttosto che dentro le sfide delle regionali e devo dire che se il Partito Democratico si deve attaccare a cospito vuol dire che si attaccasse al tram perché alla fine siamo lì, siamo a questo livello di importanza. Io mi auguro che il Partito Democratico veramente non abbia dubbi sull'efficacia del 41 bis e diciamo che certe visite che fanno a cospito ma fatto anche ad altri esponenti, altri condannati per reati così importanti e lì dentro tra i quattro c'era l'ex ministro di giustizia perché Andrea Orlando è stato ministro della giustizia, quindi secondo me è sbagliato andare a fare certe visite. Ora i malati, ma ragazzi ce ne sono un sacco di incarcerati e condannati che stanno male. Non è che ci mettiamo qua durante la settimana a parlare di loro, anzi di solito non se ne parla, però io penso che i temi oggi in Italia siano decisamente diversi e ben più importanti dello Stato di salute di un anarchico che fa lo sciopero della fame sfidando lo Stato e che comunque alla fine non prende le distanze dai movimenti anarchici e anzi dà la stura alle proteste perché domani a Roma così qui sfileranno.